Howard! La Casa Bianca Howard Hunt Il presidente chiede a un figlio di puttana per la fuga di documenti dal Pentagono Che vi serve? Ti presenterò Gordon Liddy, il piuttosto mai visto Mette la mano sulla fiamma di una candela Io non mi piego e non mi spezza Qual è il trucco? Non c'è, si procura opzioni di terzo grado, sempre Ti prego, basta Lavorate per il comitato per la rielezione del presidente La nuova missione è fare in modo che vinca queste elezioni Intercetteremo informazioni confidenziali della sinistra radica Qual è il piano? Entrare al comitato democratico al Watergate Ah, guarda, è la cosa più stupida mai sentita Colpiamo stanotte Ho gli attrezzi sbagliati Cosa? Ho gli attrezzi sbagliati Stavolta entreremo dall'ingresso principale La serratura è a doppia faccia Putza, mamma! Qualcuno deve risolvere questo casino Vuoi che entriamo una quarta volta? Come sarebbe una quarta volta? Niente, gergo da spiegare Com'è andata il lavoro? C'è la possibilità che io finisca in prigione Aspetta, cosa? Spero davvero che tu capisca la portata e le implicazioni della cosa Dica a quei politici falsi e rammolliti Che la lealtà è una strada a doppio senso Hai usato una gita di famiglia per coprire delle stronzate da spia Non siamo un branco di stupido Perché distruggi i soldi? Siamo patrioti che agiscono nell'interesse del paese E nell'interesse della tua famiglia? Luisa! Stanno cercando di dividerci Bravo! Che cosa hai fatto? Il presidente è un bravo uomo Detto fra te e me Mi preoccupano alcune persone di cui si circonda il presidente Idraulici? Prepariamo le perdite